Il sogno di Beatrice è il sogno di un'intera città. La campagna lanciata da Rete Veneta per una Bassano realmente accessibile continua a raccogliere consensi. Il FAI ha ascoltato i nostri servizi e ha voluto esprimere il proprio sostegno. Ringraziandovi per la sensibilità con cui voi avete affrontato questo problema, che non è affrontato da molti perché è un problema ostico. Va a intaccare delle problematiche che a volte insomma qualcuno cerca di evitare. È vero, alle volte l'argomento spaventa ma noi non ci facciamo intimorire. Come detto abbiamo un sogno e vogliamo che tutti i cittadini siano messi nelle stesse condizioni, abbiano le stesse possibilità. Nella vita di tutti i giorni e quando magari vogliono visitare un luogo di interesse culturale e ambientale. Una delle nostre priorità è proprio che il bene deve essere accessibile a tutto. Soprattutto a quelle persone che già pagano purtroppo per una loro disabilità. E per cui è giusto che abbiano la possibilità di vedere le bellezze che il nostro paese e non solo ha. E per cui noi abbiamo un'attenzione molto particolare per questo. Già dall'86 una legge dove diceva a tutti gli enti locali, pubblici, territoriali, per cui allo Stato, di non solo di affrontare questo argomento ma addirittura di accantonare una quota nel bilancio annuale per poter poi fare questi lavori di abbattimento delle barriere. Poi nell'89 si va a riprendere questo discorso e cioè l'obbligo anche dei beni privati aperti al pubblico. E poi io mi trovo ad andare in un comune qui vicino che per un semplice male al ginocchio non posso fare uno scalino e ho dovuto chiamare l'impiegato a venire giù in strada per farmi firmare un documento. Il sogno è quello che tutti i comuni adottino delle misure per garantire l'accesso ai disabili. Noi iniziamo dal Bassano, poi siamo sicuri molti seguiranno questo buon esempio.